La primavera porterà con sé novità per il commercio a Pistoia. Dopo le notizie delle chiusure di alcune storiche attività del centro storico, un segnale in controtendenza arriva dalle prossime aperture di alcuni locali. Si tratta principalmente di ristoranti, ma girando per le strade del cuore cittadino si possono notare anche lavori in corso in fondi che ospiteranno attività d'altro genere. Dopo un periodo piuttosto negativo, finalmente un'area di ripartenza, ha commentato Daniele Andreotti, vicepresidente della FIPE e la operazione dei pubblici esercizi di confcommercio. L'avvio di nuovi locali vuole dire anche riapertura di fondi che erano stati chiusi per diverso tempo, a cominciare da quello di Piazza della Sala, che sin al 2020 ospitava i Salaioli, che riaprirà grazie al progetto Coevo, che avrà tra le proprie caratteristiche l'essere aperto non stop dal pranzo alla cena. Noi abbiamo un locale che è il Covo Bukowski, l'abbiamo avuto per dieci anni, perché aprile avrebbe compiuto dieci anni. Il caso ha voluto che ci fosse una parete che ci divideva, abbiamo buttato giù questa parete, c'è stata questa occasione di poterci allargare, da prima forse solo una parte, poi abbiamo guardato, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo deciso che valeva la pena farlo tutto insieme e a questo punto, perché no, in un punto così strategico della Piazza di Pistoia, con quattro portelloni proprio in prima fila, siamo pronti a metterci in gioco. Novità anche in Via del Duca, dove il fondo dell'ex ristorante Stilnovo ospiterà Casa Lola, Cocina con Alma, progetto di Francesco Innocenti, della moglie Leire e di altri due soci, che proporrà una cucina che andrà dall'Italia alla Spagna, passando per il Messico. In centro troveranno poi posto anche due storici locali cittadini, Baldovino e Bibendum, che si trasferiranno da Piazza San Lorenzo in Via Curtatone. Lavoro in corso anche alla Bottegaia, in Via dell'Astrone, che cresce negli spazi. Al locale si sta infatti aggiungendo un fondo attiguo che permetterà all'osteria, l'unica nel comune capoluogo, a potersi freggiare della chiocciola di Slow Food, di avere oltre dieci posti a sedere in più. Segnali che fanno dunque ben sperare per il settore e che, proprio dalla prossima primavera, ricorda Confcommercio Pistoia Prato, vedrà la città animata da eventi, a cominciare da birri in sala il 7 aprile ed il primo dei due appuntamenti annuali con vini in sala, che si terrà ad inizio maggio.